Ben ritrovati dalla redazione di Venezia, traffico in tilt questa mattina e lunghe code con la A4 chiusa. Il cassone di un camion si è incendiato tra Sanstino e Cessalto. Il mezzo pesante trasportava carta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e di Mestre. Per il loro intervento è stata istituita una uscita obbligatoria a Porto Gruaro in direzione Venezia. Passiamo ora alla cronaca, la cronaca mestrina. Si è di ieri sera al tentativo di una donna di gettarsi dalla finestra della sua abitazione in via Gallina. Le forze dell'ordine sono riuscite ad entrare nell'abitazione distogliendo la donna dal gesto. Tanta è stata la preoccupazione in particolar modo per il figlio di 8 anni che si trovava in casa con lei. Non si conoscono i motivi che hanno spinto la donna a minacciare il suicidio. Preoccupazione anche a bordo di un pullman della CTV partito da Piazzale Roma e diretto a Mirano nella notte tra domenica e lunedì. All'altezza di via Cappuccina, dallo zainetto di un passeggero ancora non identificato, sarebbe fuoriuscito del liquido corrosivo che avrebbe raggiunto il braccio e la coscia sinistra di una ragazza di 20 anni residente a Marghera. Per lei ustioni di primo grado, per l'amica in gravidanza con cui viaggiava preoccupazione per l'inalazione dei fumi della sostanza tossica. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. A Venezia invece una donna di 38 anni, già conosciuta per i numerosi furti, è stata questa volta bloccata da un agente in borghese, mentre all'interno di un'edicola di Campo Sant'Anzolo si appropriava del marsupio di una turista. Gli agenti intervenuti hanno perquisito la borsa della donna trovando anche altra refurtiva, tra cui un ricettario per la prescrizione di prestazioni e di medicinali. Visti anche i numerosi precedenti, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del processo che si terrà per direttissima. A Marghera invece questa mattina si è consumato un furto all'alba nella parrocchia di Sant'Antonio. Due ladri si sono intrufolati negli uffici dei frati per rubare circa 1000 euro. Soldi questi raccolti per essere utilizzati in favore della cittadinanza e dei più bisognosi. I ladri non hanno lasciato purtroppo tracce. E sempre a Venezia la polizia municipale ha colto in fragranza di reato due straniere di 17 e di 15 anni, alle prese con l'ennesimo furto. Al pontile dei Vaporetti, diretti a Murano, le due hanno sottratto il portafogli ad un italiano e ad un turista americano. La refurtiva, 310 euro e quasi 200 dollari, è stata poi ritrovata in un vaso di fiori in possesso di una delle giovani. Altro intervento, sempre della polizia municipale, ha invece permesso di scoprire il raggiro di una mendicante rumena che sfruttava una cagnolina per impietosire i passanti e ricavare qualche soldo in più. L'animale è stato trovato in pessime condizioni legato ad una ringhiera in via Bembo a Mestre. La cagnolina è stata consegnata al servizio veterinario dell'ASL 12 veneziana e la rumena è stata sanzionata con una multa. Ora invece passiamo alla cronaca di Caorle, da dove arriva la notizia del reinvienimento della salma di un turista austriaco di 77 anni di cui si erano in precedenza perse le tracce. L'uomo ieri sarebbe andato a dormeggiare la sua barca nella Darsena, l'uomo è stato poi ritrovato senza vita dai sommozzatori nelle acque della zona di Viale dei Tropici. È possibile che il turista sia stato colto da un malore fatale o che sia stato vittima di un incidente. Il magistrato ha disposto l'autopsia per i prossimi giorni. E sempre tra Caorle c'è già un folle in seguimento, dopo che i carabinieri avevano scoperto tre uomini che costringevano gli automobilisti a fermarsi e una volta scesi li proponevano l'acquisto di monili e altri oggetti. Le vittime erano soprattutto persone anziane in auto da sole. I carabinieri hanno intercettato i malviventi che però sono scappati a forte velocità in direzione San Donà. Ne è nato un rocambolesco in seguimento, terminato con l'arresto dei rumeni. All'interno dell'auto i carabinieri hanno però trovato anche due bambini, figli della donna che stava con loro in macchina. I bambini avrebbero avuto 4 e 7 anni. Erano sprovvisti di qualsiasi protezione. La donna è stata denunciata. E invece adesso passiamo agli esolo dove i controlli continuano serrati per quanto riguarda gli appartamenti sovraffollati e per i venditori abusivi. Quattro le abitazioni individuate nel weekend con un numero di alloggiati superiore rispetto a quello consentito e raffica di multe per proprietari e anche per chi affitta o chi prende in affitto. In particolare all'interno di un appartamento di 38 metri quadrati all'altezza del 29esimo accesso al mare di via Bafile sono stati trovati 8 bengalesi e 9 posti letto. Oltre alla presenza irregolare degli abusivi sono stati rinvenuti 700 pezzi di materiale pronto per essere rinvenduto. Verifiche serrate sono state fatte anche nei confronti dei venditori ambulanti di panini e di bibite che con i camioncini posizionati all'esterno dei locali notturni violano la legge che prevede per loro una licenza per commercio itinerante e non quindi per commercio fisso in aree vietate. E ancora da Jesolo una bravata in via Bafile, la singolare bravata di un uomo che festeggiava l'addio al celibato con tanto di bambola gonfiabile provocando così la disapprovazione e il disgusto della gente che si trovava in passeggiata. Le frasi e gli atteggiamenti sono stati giudicati offensivi per il buon costume e contrari anche alla pubblica decenza. Ora invece comunichiamo l'iniziativa umanitaria che arriva dal porto di Venezia e dalla Caritas Veneziana che sta creando un ponte di aiuti con la raccolta e l'invio di beni di prima necessità ai rifugiati presenti nei campi profughi di Atene e attorno al Pireo. Da ieri e per due settimane presso il magazzino Cruise Logistics di Marghera sarà possibile contribuire alla raccolta offrendo generi alimentari non deperibili, prodotti di primo soccorso per l'igiene e la pulizia ma anche giochi per i bambini. E noi chiudiamo il nostro telegiornale, questa edizione, segnalandovi che è stato firmato il protocollo della candidatura del merletto italiano a patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, un progetto che vede 16 comuni italiani riuniti in rete per salvaguardare e promuovere quest'arte preziosa e antica. A quest'arte sono state dedicate intere giornate di incontri e di workshop con la biennale del merletto appena conclusosi a Venezia. Sabato al Goldoni è andato in scena uno spettacolo teatrale e punto Burano, donne sul filo del merletto, con l'attrice Chiara Stella Seravalle. Presente anche Emma Vidal, la maestra merlettaia ormai centenaria. Perché venirci a vedere? Beh, perché è uno spettacolo unico che ha cuore e di cui veramente ne abbiamo bisogno. Sì, abbiamo bisogno di sognare, abbiamo bisogno di riprendere in mano quello che riguarda il nostro passato e la nostra storia. Punto Burano è uno spettacolo, donne sul filo del merletto, è uno spettacolo fatto con il cuore, non con il cuore solo di noi, Artemide, è un'associazione che da anni si occupa di recupero di storie di donne, di archetipi, ma in questo caso di merlettaie. Sì, signori, veramente ci teniamo ad essere con voi e condividere con voi un momento importante, sabato 11 giugno alle ore 19, insieme per condividere un momento unico, in cui ci saranno assieme a noi sul palco le merlettaie, le merlettaie, le canzoni di Raquel Colombo, che ha recuperato canzoni antiche e ha rielaborato alcune parole fantastiche, punti dei merletto di Burano. E me, che sarò l'attrice, appunto, Chiara Stella Saravalle, la regia è di Massimo Navone, un regista straordinario, perché veramente si è calato nelle parole, nell'anima di tutte queste donne che ci hanno consegnato un patrimonio unico con le loro testimonianze. Il telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a giovedì, sempre alle ore 19.10. Grazie.